Il governo sta lavorando in questi giorni ad un decreto d'urgenza che introduca regole più severe sulla sicurezza stradale. Se il testo venisse approvato salirebbe a sei mesi dagli attuali tre il minimo di arresto per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l'effetto di droga. È anche prevista l'introduzione del tasso alcolemico zero, un divieto assoluto di bere alcolici per chi ha meno di 21 anni e per chi è alla guida per lavoro, autisti e autotrasportatori. Come alternativa al carcere è previsto l'affidamento ai servizi sociali e attività nel campo dell'assistenza alle vittime della strada e alle loro famiglie. Maggiore severità anche per le infrazioni che fanno perdere punti della patente, con multe più alte e la sospensione da 3 a 6 mesi per eccesso di velocità. Per esempio un aumento da 370 a 500 euro delle sanzioni per chi supera i limiti di oltre 40 km all'ora e fino a 2.000 euro per le sanzioni massime. I neopatentati per un anno non potranno superare i 90 km all'ora in autostrada e i 70 km all'ora per le strade extraurbane. Nel testo c'è forte attenzione anche per i giovani con la possibilità di introdurre una sorta di foglio rosa già a 17 anni per poter fare esperienza prima della maggiore età. In arrivo nuove regole per le autoscuole, ci saranno esercitazioni obbligatorie in autostrada e strade extraurbane e anche di notte con un istruttore qualificato.